Omicida a Monserrato in via Giulia Agricola. Un uomo di 79 anni, Antonio Piso, imprenditore edile, è stato ucciso a colpi di pistola attorno alle 11 all'interno di un'abitazione. Il presunto autore del delitto, un uomo di 76 anni, Luigi Piras, è stato fermato dagli agenti della squadra volante e dalla questura di Cagliari intervenuti sul posto. Secondo una prima ricostruzione, ci sarebbe stata una violenta discussione tra due uomini per questioni di natura economica legate al canone di locazione. Poi ci sarebbe stato il delitto. Sul luogo dell'omicidio sono intervenuti anche gli agenti della squadra mobile della questura di Cagliari che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell'omicidio e individuare il movente. I specialisti della polizia scientifica hanno effettuato i rilevi sulla scena del crimine, sul posto il medico legale e il magistrato di turno.